Veramente abbiamo pensato di dare la notizia anche con la soluzione di quella che è la criticità che si è venuta a creare. Come è noto il dannunzio è una struttura all'aperto quindi comunque non viene utilizzata in questo periodo. Però noi siamo consapevoli che la stagione estiva è alle porte e quindi abbiamo subito iniziato a lavorare appena a conoscenza della situazione di criticità che si era verificata per trovare le migliori soluzioni per salvare la stagione e quindi in modo particolare anche le maggiori iniziative, quelle storiche che vengono ospitate ogni anno all'interno del teatro d'annunzio. Proprio stamattina con i tecnici del comune, con i referenti dell'ente manifestazione siamo andati a visionare il campo flacco, il cosiddetto antistadio e abbiamo verificato che anche tecnicamente c'è la possibilità di ospitare gli spettacoli della stagione estiva all'interno di questa struttura garantendo anche una capienza simile se non superiore a quella del d'annunzio certo è una soluzione che non è che è identica al d'annunzio, il d'annunzio è un teatro monumentale però comunque crediamo che sia la migliore soluzione al momento per garantire la stagione estiva. Con la dottoressa Tiboni io personalmente ho cercato di mettermi in contatto con lei ma non è stato possibile comunicare direttamente però è chiaro che i premi Flaiano potranno essere ospitati lo stesso all'interno della struttura flacco oppure in alternativa a Piazza Salotto, Piazza della Rinascita in cui sono stati ospitati per più volte negli scorsi anni. Per quanto riguarda la cifra necessaria c'è stato comunicato che dovrebbero essere necessari 2 milioni e mezzo di euro è una cifra che noi avevamo già cercato di reperire con risorse regionali torneremo sicuramente alla carica per poter restituire alla città di Pescara nel più breve tempo possibile il teatro d'annunzio. Faccio veramente fatica con l'atteggiamento che ho di solito io a rispondere a queste contestazioni abbiamo raccontato che con i tecnici interessati l'ultimo sopralluogo si è tenuto questa mattina quindi domattina sarebbe stato il primo giorno utile per dire alla città quello che è accaduto e quello a cui si stava lavorando adesso se la gara è a chi la dice prima l'abbiamo persa va bene se il PD è d'accordo pensasse al risultato alle regionali magari che quella è una gara che invece hanno perso. Grazie Grazie